Mister, la prima vera amichevole della stagione con il Sansepolcro, un primo tempo molto buono, il secondo tempo un pochino meno, ma la girandola dei cambi ha influito molto su questa cosa. No sì, oggi era importante iniziare a conoscerci, questa è stata la prima amichevole vera che abbiamo fatto, veniamo appunto come avevo detto prima sui quattro colleghi da tre settimane di lavoro molto pesanti, quindi i carichi si iniziano a far sentire sia dal punto di vista fisico che mentale, però ho avuto dei buoni riscontri, so che dobbiamo lavorare tanto, però sono soddisfatto di queste tre settimane. Siamo appunto alla fine del ritiro e domenica c'è già la Team Cup, l'esordio ufficiale al comunale contro la Turris. Sì, è una partita importante, affronteremo una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, ha cambiato poco, sappiamo che ha fatto la squadra per essere protagonista del loro campionato, è una squadra che dobbiamo prendere con le molle perché è una squadra forte e noi dobbiamo appunto andare avanti, quindi sappiamo che dobbiamo fare una buona gara. Sarà una serata particolare anche per te che vai a esordire su una panchina dalla quale ti davano le direttive quando stavi in campo invece. Sì, sarà un'emozione particolare perché adesso ci ho giocato, adesso ci alleno, quindi sarà un'emozione particolare, però è sempre bello tornare in quello stadio. Grazie.